Musica Nelle Marche si è purtroppo tornati a parlare di emergenza, sicurezza nei posti di lavoro, la morte del 26enne a Fano, poi l'operaio di Iesi in condizioni gravissime. Quanto è importante la prevenzione in tema sicurezza appunto nei posti di lavoro? È importantissima soprattutto perché i fatti che sono accaduti hanno colpito fortemente il nostro territorio, sembrano fatti un po' da terzo mondo, in realtà ci rendiamo conto che anche nel nostro territorio, che è fortemente sviluppato anche da un punto di vista economico, ancora succedono fatti così gravi, che sconvolgono la società, le famiglie e chiaramente anche i lavoratori, che spesso ogni giorno si trovano anche a lavorare in condizioni di difficoltà. Come ordine psicologi noi abbiamo puntato molto lavorando anche con altri ordini professionali, con i consulenti del lavoro, con gli avvocati, proprio per garantire al massimo quelle che sono delle condizioni di benessere psicologico della popolazione. E su questo com'è la situazione italiana? La situazione italiana da uno studio condotto nel 2022 è critica, purtroppo è all'ultimo posto per engagement, quindi per attaccamento al lavoro e per clima lavorativo da un punto di vista europeo. È al secondo posto per umore negativo al lavoro e al quinto posto per stress lavorativo. E sappiamo come la condizione psicologica, quindi anche la fragilità psicologica delle persone, fa sì che possano aumentare anche gli incidenti lavorativi. Di questo sono spesso colpite anche le donne, i dati dicono questo, che spesso sono donne che si ammalano al lavoro o comunque subiscono un danno al lavoro, sia fisico che psicologico. Pertanto sappiamo che il benessere personale è importantissimo affinché il lavoratore poi vada a lavorare anche con un atteggiamento più sano, più attento e quindi anche più tutelante per se stesso. Si parla di sicurezza principalmente fisica, ma c'è evidentemente anche una salute psicologica nei posti di lavoro, quindi? Sì, la sicurezza fisica e la sicurezza psicologica vanno a stretto braccetto. L'una non può prescindere dall'altra perché comunque le condizioni, per esempio anche di salute mentale, l'insonnia, piuttosto che un abbassamento delle difese immunitarie, le crisi anche familiari, di coppia o personali, incidono poi sulla modalità con cui una persona si approccia al lavoro. Pertanto bisogna sempre tenere alta l'attenzione sul benessere psicologico dei lavoratori e di questo poi le aziende devono farsene anche in parte carico. Si parla di sicurezza nei luoghi di lavoro, però solamente all'interno dei luoghi in cui si lavora. Si può portare questa prevenzione anche fuori a scuola, nelle famiglie, tra le persone? Sì, noi dobbiamo comunque sempre tenere alta l'attenzione sul benessere psicologico, fin dalle prime fasce, dalle scuole appunto con i ragazzi, sapere che il punto di vista psicologico, il benessere psicologico, fa sì che una persona poi si approcci a tutti gli aspetti della propria vita con un atteggiamento migliore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.